Siamo con Gianni Beschin, oggi è arrivato un pareggio contro una buona squadra, questo Belvedere, ma è stata una partita però abbastanza nervosa, sin dai primi minuti. Noi sentivamo questa gara perché avevamo bisogno di ricredere nei nostri mezzi, venevamo da delle prestazioni non certamente buone, positive, e volevamo vedere come eravamo messi, di che tempo eravamo. Avevamo un avversario che ci ha dato le giuste stimolazioni e credo che i ragazzi abbiano risposto. C'è stato un po' di nervosismo e questo significa che ci tenevano, significa che avevano ragione di credere in quello che dovevano dimostrare. Noi gli abbiamo chiesto in settimana di darci una prova per avere ragione di capire se o meno c'erano i presupposti per credere ancora in qualcosa nel nostro percorso e credo che oggi ce l'abbiano dato questa risposta. Sono due punti persi oppure un punto guadagnato? Direi che tutto sommato il pareggio mi può stare anche bene, e poi se guardi i singoli episodi potevamo anche avere delle opportunità di concretizzare in modo diverso. Però tutto sommato un pareggio con una squadra buona ed efficace come il Belvedere credo che ci stia tutto. Si prosegue adesso con l'obiettivo ormai dichiarato, di centrare un posto in questi play-off? Noi ci giochiamo le partite di domenica in domenica, non ci facciamo programmi. Un nostro obiettivo importante l'abbiamo raggiunto ed era quello che inizio di stagione volevamo così ottenere, l'abbiamo ottenuto con dieci giornate di anticipo. Adesso vediamo quello che succede, vediamo queste prestazioni che andremo a compiere da adesso e alla fine del campionato e vedremo cosa succederà.